Oggi è proprio una bella giornata autunnale. Sì, l'autunno è una delle mie stagioni preferite. Ma cosa dico? A me piacciono tutte le stagioni? Estate, autunno, inverno, primavera. Mi piacciono tutte quante. Beh, sì, ogni stagione effettivamente ha il suo fascino. Tu, Daniel, quale preferisci? Oh, io forse preferisco l'inverno, così posso star meglio al calduccio in casa. Sì, effettivamente anche l'inverno è molto bello. Beh, però ancora godiamoci queste belle giornate. Andiamo a vedere se Dotti ha voglia di uscire con noi. Si sta così bene fuori. Sì, sì, dai, busso. Dotti, siamo noi. Dai, esci. Dotti. Ma che strano, forse non c'è? Dotti? Ma Peppa, cosa fai? Sbirci? Eh, sì, voglio vedere. Qui non c'è. Dotti? Ragazzi, sono di sopra, entrate, la porta è aperta. Oh, ma che strana voce. Dai, entriamo. Dotti, ma che ti succede? Oh, non sto per niente bene, amici. Oh, mamma mia, Dotti, ma hai delle bolle verdi in faccia? Sì, non sono per niente carine. Daniel, non dirle così. Oh, ragazzi. Sto malissimo, non so che qualcosa mi sia successo. Tutto è iniziato con un raffreddore, poi mi è venuto un po' di febbre e questa mattina mi sono svegliato con queste brutte pustole in faccia. Beh, ma tu sei una dottoressa e non puoi curarti? Peppa, sinceramente questa malattia non la conosco. Non so che cosa fare. No, non ci picchia. Forse tata Susina sa come aiutarti. Tu dici? Secondo me sì. La vado a chiamare. Torno in un battibaleno. Grazie, Ollie. Quindi dov'è la bambina? Tata Susina è di sopra nel suo letto, ha la febbre, non sta per niente bene. Oh, d'accordo. Hai detto che ha delle bolle verdi. Sì, disgustose, ma è meglio non dirglielo. Oh, ma certo, certo, non voglio mica offenderla. Andiamo di sopra, dai. Sì, sì, ti seguo. Ecco, Dotti, ho portato tata Susina. Oh, buongiorno, tata Susina. Oh, per Diana. Questa non l'avevo proprio mai vista. Anzi, sì, l'avevo già vista, una cosa del genere. Allora, bambini, voi uscite tutti quanti. Ci penso io a Dotti, ok? Vi chiamo. Appena avrò fatto. Ma non possiamo aiutarla? No, 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 Peppa. Meglio che voi usciate. Insomma, non vorrete ammalarmi anche voi. No, no, per carità. Ok, ragazzi, andiamo. Sì, va bene. A dopo, Dotti. Ciao, ragazzi. Allora, tata Susina che mi dice? mia cara, io credo che tu ti sia preso una bella intossicazione. Un'intossicazione? Sì. Hai mangiato qualcosa di strano? Beh, no, direi di no. Ho mangiato un piatto di pasta con delle erbe ieri. Che erbe, mia cara? Oh, beh, io credo che fossero Salvia, Timo e Maggiorana. Le ho raccolte proprio io. Quando non si è sicuri è meglio non raccoglierle le erbe. Per il momento ti è andata molto bene, ma avresti potuto anche, oh, non farmelo nemmeno dire. Veramente? te. Ma certo, mia cara. Le erbe possono fare benissimo o malissimo se non si conoscono. Ora ti proprerò un infuso che ti farà sicuramente star bene. Nel giro di poco tempo ti spariranno quelle bolle. Però ho bisogno, sì, ho bisogno delle mie cose. Torno tra poco. Tu rimani intanto ferma lì al caldo. Sì, sì, e chi si muove? Ok. A dopo, cara. A dopo. Allora, tata Susina, che cos'è successo adotti? Allora, ha raccolto delle erbe che non conosceva, le ha confuse per altre e si è presa una bella intossicazione. Non è contagioso però? No, Peppa, non è contagioso, non ti preoccupare. Però ora le devo preparare un infuso per farla guarire e ho bisogno delle mie erbe, quindi devo tornare un attimo al castello. Bambini, voi tenetele compagnia, tanto non è niente di pericoloso per voi. Ci vediamo tra pochissimo. Va bene, d'accordo. Hai bisogno di aiuto, tata Susina? No, no, le non ti preoccupare. So esattamente che cosa mi serve. Voi restate qui, tenetele compagnia a quella poverina. A dopo. A dopo, tata Susina. Accipicchia, povera Dotti. Eh sì, povera sì. Bisogna sempre stare attenti con le erbe. Me l'ha sempre detto, tata Susina. Io non sapevo che potessero anche far male. Ma scherzi, Daniel, ci sono delle erbe pericolosissime che possono essere velenose. Per non dire peggio, ecco, non fatemelo dire. Davvero? Eh sì, eh sì. Ci sono alcune che si riconoscono bene, facilmente. Ma altre no, si possono confondere. Dopo sì che ho un problema. Beh, intanto ritorniamo da Dotti. Sì sì, teniamo le compagnia. Povera, chissà come sta male. Ehi, Dotti, siamo tornati. Come ti senti? Molto stanca e anche un po' dolorante, ha un po' di nausea, insomma, male. Povera. Tata Susina ci ha detto che cosa è successo. Sì, devi stare più attenta. Eh, Daniel, ora lo so che devo stare più attenta. Spero solo che l'intrullio che mi darà tata Susina mi faccia stare bene. Oh sì, per quello puoi contarci, non ti preoccupare. Sarà sicuramente qui a minuti. Intanto riposati tu. Sì, effettivamente ho un po' di sonno. Allora dormi, noi saremo qui. Sì, fatti una bella dormita, Dotti. Vedrai, dopo ti sentirai meglio. D'accordo. Eccomi qua, sono arrivata. Oh, bene, tata Susina. Ecco qua, Dotti, ti ho portato l'infuso di cui ti parlavo. Con questo ti sentirai subito molto meglio. Dovrai continuare a berlo anche nei prossimi giorni per purificarti, insomma, per togliere tutte le tossine che hai nel corpo. Va bene, d'accordo. Ecco, tieni, cara. Bevilo, bevilo lentamente. Sì. Oh, mio Dio, ma è disgustoso. Sì, lo so, lo so. Non è famoso di sicuro per il suo gusto. Ma è sicura, tata Susina, che mi farà stare meglio? Ma certo, insomma, non metterei mica in dubbio le mie arti. No, no. Ok, può bastare. Babba mia. Allora, per i prossimi giorni cerca di non mangiare praticamente nulla, però di bere tanto, tanto, tanto. Ti devi proprio disintossicare. Va bene, tata Susina. E ora ti devi riposare, quindi? Forza, hop hop! Tutti via, lasciamo stare Dotti. Resterò io qua con lei. Ma davvero sicura, tata Susina? Ma sì, certo, Peppa. So perfettamente quello che sto facendo. Beh, allora, Dotti, ti veniamo a trovare domani. Va bene, grazie, ragazzi. Siete stati molto gentili. Ma ci mancherebbe. Arrivederci, tata Susina. Arrivederci, Peppa. Ciao, Dotti. Ciao, Olly. Grazie, grazie di tutto. Ma figurati. Beh, allora vado anch'io. Ciao, Daniel, caro. Ciao, Dotti. Cerca di rimetterti. Arrivederci. Ciao, Daniel. Ciao, ciao. Bene, cara. Ora penserò io a te. Non ti preoccupare. Tu riposati. Va bene, tata Susina. Mi faccio una dormita. Brava, cara. Dormi, dormi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.